I teletopi sono gli Oscar delle web tv italiane. Il nome intende parafrasare la più nota competizione dei telegatti, avendo però come riferimento l'animale simbolo del noto strumento di navigazione, il mouse. La rassegna sposta i riflettori sulla rete, dove si moltiplicano da anni l'esperienza di web tv e videopartecipazione. La rassegna è ideata e realizzata dall'osservatorio interuniversitario altratv.tv network, che dal 2004 monitora e recensisce le esperienze di web tv italiane. Le web tv saranno giudicate da una giuria di critici ed esperti della comunicazione, preseduta dalla giornalista Carmen Lasorella. Sono 13 le categorie nelle quali è possibile partecipare e Adige Web TV è stata inserita nella categoria Web TV informativa. Le premiazioni di questo concorso si svolgeranno all'interno di una di due giorni, dedicata alle web tv italiane e precisamente il 6 dicembre a Reggio Emilia. Da quest'anno, per la prima volta, i teletopi 2012 consentono anche il voto degli utenti online. Questo voto consentirà alla web tv maggiormente votata di ricevere il riconoscimento miglior web tv votata dalla rete. Per ogni utente è possibile esprimere un solo voto di preferenza. Se desideri votarci, clicca sul link teletopi indicato dalla freccia. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti